qui si vedi ecco a voi l'artista in diretta Walter Paiello che ha raggiunto 100.001 visualizzazioni un applauso bravo Walter e ora ho più da bere a tutti vai fate un bicchiere di vino portati il bicchiere e una sedia mancavi solo tuo l'appello e ora guardiamoci tutti i video